In questo numero del Salus Tg, Simeu. Ogni anno solo 80 posti per le scuole di specializzazione in medicina d'emergenza, ne servirebbero circa 300. In Francia è ipnosi usata al posto dell'anestesia per operare un tumore della prostata. Torna Race for the Cure, tre giorni di sport, benessere e prevenzione contro il cancro al seno. Lo scorso anno per il bando delle scuole di specializzazione in emergenza-urgenza sono stati messi a disposizione circa 80 posti, ma in Italia, nei pronto soccorso, c'è un deficit di medici specializzati. Ne servirebbero infatti 3-4 volte di più, circa 300. È l'appello lanciato da Gian Alfonso Cibinella, presidente della Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza, la Simeu che ha promosso la settimana nazionale del pronto soccorso dal 16 al 24 maggio. Proprio in questi giorni il MIUR dovrebbe pubblicare il bando per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica. Ipnosi, invece della normale anestesia, per operare il tumore della prostata, riducendo i rischi e i tempi di recupero post-operatori. La tecnica è utilizzata in Francia al centro ospedaliero Lyon-Sud, dove i pazienti vengono rivolte per l'intervento in radioterapia interna o curiterapia, una metodica che oltre alpe viene già utilizzata per l'ablazione dei tumori del seno. Contro il cancro del seno riapre venerdì 15 maggio il villaggio della salute della Susan Comen Italia, che proporrà gratuitamente, oltre alle informazioni e alla possibilità di esami diagnostici, tante altre iniziative, come gli incontri di educazione alimentare, ma anche zumba, danza, pilates, yoga, meditazione e spazi per bambini. Sempre dal villaggio, domenica mattina partirà l'oramai nota corsa competitiva e amatoriale di 5 km e la passeggiata di solidarietà di 2 km. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.raceroma.it